La Quaresima è il periodo che precede la celebrazione della Pasqua e dura dal mercoledì delle Ceneri, quando il popolo di Dio riceve il segno delle Ceneri, fino al Giovedì Santo per un totale di 40 giorni. Simbolicamente i 40 giorni ricordano il periodo trascorso da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel fiume Giordano e prima del suo ministero pubblico. Durante il Giovedì Santo si celebra la Messa nella Cena del Signore che apre le cerimonie del Triduo Pasquale, cioè l'insieme delle celebrazioni che concludono la Settimana Santa. Nelle messe della Quaresima non si canta l'Alleluia, non si celebra il Gloria e si utilizza il colore viola per i paramenti liturgici. Essa è un periodo di penitenza che ha come obiettivo la riconciliazione non solo con Dio ma anche con i fratelli. Le opere di penitenza che vengono fatte durante la Quaresima riguardano il digiuno che è limitato al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, l'astinenza dal mangiar carne il venerdì, la preghiera, poiché il periodo di Quaresima è il tempo più propizio per la conversione e la carità intesa come impegno verso i fratelli più bisognosi. Nei giorni della Quaresima, a livello diocesano, sono già previsti alcuni appuntamenti importanti. Di particolare solennità la Messa che il Vescovo diocesano, Monsignor Francesco Montenegro presiderà alle 18 nella chiesa di Sant'Alfonso ad Agrigento. Don Franco stesso imporrà ai fedeli presenti le ceneri, simbolo di penitenza.